Michelle Unziker alla festa dei 40 dell'ex marito Tommaso Trussardi, foto. Tommaso Trussardi spegne candeline importanti. Cumpie 40 anni, per l'occasione sul social arriva la dedica dell'ex moglie. Michelle Unziker nelle sue storie gli fa gli auguri. Happy birthday daddy, scrive la Svezera al padre delle sue due figlie sole. 9 anni, e celeste, 7. La showgirl 46enne poi va alla festa dell'imprenditore con cui i rapporti sono tornati a essere ottimi. E così immancabilmente c'è già chi parla di ritorno di fiamma. Tommaso organizza il suo party in una villa storica di Bergamo Alta. Tanti gli invitati che arrivano per celebrare il rampollo della famosa Maison. Tra i quali anche l'influenciere amica Paola Turani. Tra tutti, però, spicca la presenza di Michelle. Che si lascia fotografare sorridente accanto a Trussardi. All'evento si serve una cena gourmet, accompagnata da vini speciali d'annata e c'è un buffet di dolci infinito. La Unziker sorride e scherza con l'uomo a cui è stata legata per 10 anni. Era il 2014 quando la coppia si è giurata amore eterno. Poi è arrivata l'inaspettata separazione, che è stata annunciata dai due a inizio 2022. Tommaso inisce il posano con gli chef che hanno curato tutte le pietanze. Indossa un look che definisce Grifondoro. Facendo riferimento a una delle quattro case della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Quella che prende il nome dal suo fondatore, Godric Grifondoro, nella mitica saga di Harry Potter. Ha una camicia celeste con un delizioso fiocchetto legato sul colletto e sopra un completo giacca e pantalone scuro. Insieme a Michelle ci sono anche le figlie avute con Tommaso, Trussardi, infatti. Le ha volute alla festa per celebrare insieme a loro i 40 anni. Del resto, rimangono una famiglia unita in armonia. Proprio come ha sempre desiderato la Svizzera. Proprio come ha sempre desiderato la Svizzera.